E' stato firmato dal Ministero della Transizione Ecologica l'avvio formale del procedimento autorizzativo del Tirrenian Link Ramo Est, tratta dell'elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà Campania e Sicilia. Terminata la fase di consultazione pubblica con le amministrazioni e i cittadini interessati dall'intervento, lo scorso 22 luglio la società che gestisce la Rete Elettrica Nazionale, ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica istanza formale per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del ramo est. Lunga complessivamente 480 km, la tratta est unisce l'approdo siciliano di Fiume Torto nel comune di Termini Imerese in provincia di Palermo a Torre Tuscia Magazzeno, situata nel comune di Battipaglia. L'approdo dei cavi marini sarà realizzato con una tecnica che consente di evitare scavi a cielo aperto sulle spiagge. Il progetto presentato in autorizzazione prevede la realizzazione di una stazione di conversione a Eboli nell'area dell'ex mercato Orto Frutticolo collegata all'approdo di Torre Tuscia Magazzeno da un elettrodotto in cavo interrato di 15 km che percorrerà strade esistenti senza alterare ambiente e paesaggio. Anche la stazione di smistamento sorgerà ad Eboli grazie ad una scelta tecnologica di Terna infatti sarà possibile utilizzare la metà della superficie inizialmente prevista dal progetto.